Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Ragazzi, come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Siamo a Myrtle Beach, nel South Carolina, ed è il 19 dicembre del 2013. Partiamo col delineare il luogo in cui si svolge questa vicenda. Myrtle Beach è una città situata nella parte nord-orientale del sud della Carolina, sull'oceano atlantico. È sicuramente una meta di villeggiatura, i turisti d'estate non mancano affatto. A pochi chilometri dal centro cittadino è presente un piccolo attracco per imbarcazioni che si chiama Pitch Tree Landing. Questa zona di giorno è brulicante di barche e kayak che vanno avanti e indietro, ma quando cala la notte la situazione è ben diversa. La zona è isolata, è buia. Insomma, quello è un posto che di solito le persone frequentano di notte per non essere viste. Il 19 dicembre, alle 9 di sera, un agente di nome Kenneth Cranterbury risponde alla segnalazione di un veicolo sospetto a Pitch Tree Landing. E in effetti è presente un veicolo sospetto, o meglio, è parcheggiato in modo strano. La macchina non è né dritta né in diagonale, ma occupa due posteggi. Pare che sia lì da un po' di tempo ed è una Dodge in tre pit verse. La gente ovviamente si avvicina al veicolo per ispezionarlo più da vicino. E in effetti nota che non è presente alcun finestrino rotto o segno di scasso. Non c'è alcuna traccia di sangue, quindi forse qualcuno aveva parcheggiato lì, poi era salito in macchina di qualcun altro e se n'era andato. Myrtle Beach è la città più grande della contea di Horry e, come già vi ho detto, è una meta vacanziera. La città è conosciuta anche per gli esclusivi campi da golf. Inoltre, affacciate a lungomare, si trovano facilmente i centri commerciali, bancarelle di souvenir e ristoranti. Poi c'è anche un vecchio parco di vestimenti chiamato Family Kingdom e una delle ruote panoramiche più grandi del paese, chiamata Skywheel. Dato il luogo in cui si svolgono i fatti, non è insolito che la polizia trovi un'auto abbandonata da qualche parte. Solitamente gli agenti non pensano subito al peggio, ossia all'omicidio. In questo caso specifico, tra l'altro, hanno anche dei buoni motivi per non pensare al peggio. In quanto l'interno della macchina è sottosopra, è pieno di oggetti sparsi all'aria infusa, ma in realtà non c'è niente di sospetto. Però è comunque strano trovare una macchina abbandonata a quell'attracco, che tutto sommato è abbastanza isolato. L'agente è intervenuto a fare la cosa più ovvia, ossia controlla la targa del veicolo. È così che scopre che la macchina è registrata a nome di un certo Terry Elvis. L'agente, Kenneth Granterbury, conosce il proprietario della macchina, in quanto è anche il proprietario della tipografia della città. L'agente quindi, avendo un buon rapporto con Terry Elvis, decide di dirigersi direttamente a casa sua, col fine di chiedergli spiegazioni. L'agente quindi arriva a casa di Terry Elvis e gli chiede se per caso gli hanno rubato il veicolo. L'uomo si sporge, guarda nel vialetto e dice, no, la macchina c'è, è lì. L'agente però insiste, dice, Terry ti sto parlando di un intrepid verde, è registrata a tuo nome, è tua? È così che Terry risponde, eh sì, è registrata a me, ma la guida è mia figlia, Heather. Ma chi è Heather? Ebbene, Heather nasce il 30 giugno del 1993, questo significa che era mia coetanea. È la secondogenita di Terry Elvis e non vive più con la sua famiglia. L'agente a questo punto spiega la situazione a Terry. Gli racconta di aver trovato la macchina, ma di Heather non c'è traccia, nonostante l'auto non sia né scassinata né danneggiata. Ovviamente Terry pensa che la cosa sia il quanto preoccupante, quindi torna con l'agente, Kenneth, a Pitchtree Landing, per poi spezionare l'auto di sua figlia con lui. Kenneth per prima cosa apre lo sportello del guidatore e il sedile è ricoperto di busta aperte. Poi si sposta sul lato passeggero notando ancora più immondizie. L'agente a questo punto chiede a Terry se per caso quel disordine sia insolito. Ma l'uomo risponde che no, in realtà non è affatto insolito. In quanto Heather è sempre stata disordinatissima. L'auto è sempre stata piena di roba ammassata ovunque. Quindi quel disordine non risulta sospetto. A questo punto però Terry e Kenneth devono fare un'ultima cosa, ossia controllare il bagagliaio. I due già pensano al peggio. Non è difficile pensare che il corpo di Heather potrebbe effettivamente trovarsi in quel bagagliaio. Però anche lì dentro fortunatamente c'è solo immondizia. In realtà all'interno del bagagliaio trovano alcuni documenti, ma non c'è niente al momento che possa essere considerata una prova importante. Mancano però le chiavi, il portafogli, il cellulare e l'agenda personale di Heather. Non sapendo dove si trovi sua figlia, la preoccupazione di Terry e suo padre aumenta in un poco. Non riesce a capire perché si è sparita. L'ultima volta che l'aveva vista qualche giorno prima era passata da casa sua per prendere una chitarra. Erano lì tutti intenti a fare l'albero, quindi Heather si è anche trattenuta qualche minuto in più per fare quattro chiacchiere con la famiglia. Su padre Terry sostiene che quando era uscita di casa era tranquillissima, non aveva alcun problema. Ora però sua figlia pare si sia dissolta nel nulla e non è neanche raggiungibile perché non risponde al telefono. Scatta sempre la segreteria telefonica e questa cosa è molto strana perché solitamente Heather andava in panico quando il telefono sfiorava il 30% di batteria. Questo vuol dire che lei quando vedeva il suo telefono al 40% di batteria tentava sempre di metterlo in carica da qualche parte. Heather inoltre non è una ragazzina scapestrata, anzi ha un lavoro fisso, amici e parenti che la amano. Insomma, Heather non ha nessun motivo valido al mondo per lasciare la città senza avvisare nessuno. Né l'agente Kenneth né il padre di Heather, Terry, sanno cosa pensare. Non c'è nessuna indicazione che dimostri effettivamente che si sia verificato un crimine e questo è il problema. Quindi alla fine Terry porta a casa l'auto della figlia e il giorno dopo ne denuncia la scomparsa. Ma parliamo un po' di più di Heather che ha 20 anni ed è la figlia di mezzo. Suo fratello Christopher ha 10 anni in più di lei, mentre sua sorella Morgan ne ha 4 in meno di lei. Tutti e tre sono molto uniti, hanno sempre avuto un bel rapporto. Quando Heather e Morgan erano piccoline, usavano pennarelle e tempera un po' ovunque, causando dei guai non indifferenti. Heather è chiaramente una bambina che ama i colori, ama la pittura. Crescendo inizia anche ad appassionarsi al canto, ama cantare, ma detesta con tutta se stessa esibirsi in pubblico. Verso la fine dell'adolescenza, peraltro, Heather sviluppa anche un lato più serio, più responsabile. Frequenta la chiesa, va in missione, fa volontariato e inoltre fa anche progetti di costruzione all'estero. Infatti per un periodo è partita con altri volontari per aiutare gli abitanti di Puerto Rico a riparare le loro case, ahimè malconce. Heather ama aiutare il prossimo e rimane ben poco con le mani in mano, infatti ben presto travo il lavoro. Dopo il diploma superiore ottenuto presso la St. James High School, Heather entra nello staff del Tilded Kilt, un ristorante, e inoltre se ne va anche di casa. I suoi genitori le permettono di andare a vivere da sola. Heather trova un appartamento poco distante nella casa dei suoi genitori, a Carolina Forest, e ci si trasferisce. Però, diciamola proprio tutte, in realtà Heather non va a vivere proprio da sola. Pensi va a vivere con la sua migliore amica, Brianna. Le due si conoscono proprio grazie al lavoro, ed Heather, in quel ristorante, fa la cameriera. Uscita da scuola, Heather ha un diploma da estetista, ed è in effetti anche molto brava, ha talento. Il giorno della sua scomparsa, per di più aveva trovato un lavoro in uno dei saloni di bellezza della città. Finalmente poteva fare il lavoro per cui aveva studiato. Era entusiasta, ed era stata assunta come truccatrice. Però, ora di Heather, si è persa ogni traccia. E qualche ora dopo il ritrovamento dell'auto, suo padre e sua madre ricordano un particolare. Il martedì precedente alla scomparsa, quindi il 17 dicembre, Heather era passata da casa per ritirare la posta. Con non curanza, la ragazza aveva anche detto di avere un appuntamento, e quindi doveva andare a prepararsi. Sua madre aveva chiesto a Heather chi fosse il ragazzo in questione. Ma Heather si era limitata a rispondere a sua madre, Ma, ma, boh, è uno nuovo. L'ho conosciuto da poco, quindi staremo a vedere. Quella stessa sera, Terry, il padre di Heather, aveva ricevuto un messaggio da sua figlia. Heather, infatti, gli aveva inviato una foto, mentre era al volante di un pick-up. Stava sorridendo e, insomma, sembrava molto, molto felice. Sotto quella foto, Heather a suo padre aveva scritto, fiero di me. Dopo quel messaggio, Heather non si era più fatta viva con i suoi genitori. La polizia, quindi, a questo punto, ha un compito. Identificare l'uomo che ha scattato la foto a Heather mentre guidava. L'appuntamento tra i due si è svolto circa 24 ore prima che la polizia trovasse la macchina di Heather abbandonata presso l'attracco. Le domande sono due. Chi era l'uomo con cui Heather è uscita quella sera? Ma soprattutto, dov'è finita Heather? Perché non si trova? Una pista conduce la polizia ad un ragazzo che potrebbe aver visto Heather per l'ultima volta. Si chiama Stephen Schiraldi. Gli agenti lo convocano al centrale e Stephen, in effetti, racconta che la sera del 17 dicembre Heather era uscita con lui. I due avevano frequentato la stessa scuola, quindi già un pochino si conoscevano di vista. Ma non avevano mai parlato seriamente. Stephen dice alle autorità che in effetti aveva contattato Heather tramite i social. Non si conoscevano bene, ma lui piaceva parecchio. Quindi gli aveva chiesto di uscire. Heather aveva accettato. Così il ragazzo era andato a prenderla per portarla a cena in un ristorante messicano di nome Bandidos, al centro di Myrtle Beach. Dopo il ristorante, Stephen aveva portato Heather in un parcheggio di un centro commerciale, proprio col fine di farla guidare con il cambio automatico. Ed è proprio in questo caso che Stephen ha scattato la foto che poi Heather ha mandato a suo padre. Dopo la lezione di guida, Stephen racconta di aver portato Heather a casa sua, dove vive anche sua madre. I due avevano guardato un film in camera, poi Stephen l'aveva riaccompagnata a casa. E lei l'aveva anche invitato ad entrare. Stephen però ha preferito evitare. Quindi sono rimasti fuori dalla porta a darsi qualche bacino. Poi alla fine Stephen era tornato a casa. La polizia è molto interessata all'appuntamento che Heather ha avuto con Stephen Schiraldi, in quanto lui ha ammesso di aver passato tutta la serata con Heather, proprio poco prima che scomparisse dalla faccia della Terra. Gli agenti a questo punto, per confermare una parte della storia di Stephen, interrogano sua madre. La donna sostiene che i ragazzi quel martedì erano tornati a casa per guardare un film insieme. E dopo aver riaccompagnato a casa Heather, Stephen era tornato a casa e si era semplicemente chiuso in camera sua. Da lì non era più uscito fino al mattino dopo. In pratica era impossibile che Stephen le avesse fatto del male. Il suo alibi reggeva, stava in piedi. Escluso Stephen Schiraldi, la polizia scava ancora di più nella vita privata di Heather. E ispeziona anche il suo appartamento, che in questo momento è vuoto. Perché la sua coinquilina e migliore amica è dai suoi genitori in New Jersey, proprio in vista delle vacanze natalizie. Così gli agenti entrano in casa e trovano un gran disordine. Che però tutto sommato è nella norma per una ragazza di 20 anni, ma soprattutto per una persona disordinata come Heather. C'è confusione in casa, è vero. Ma non c'è alcun seno di collutazione che possa far pensare ad un crimine. Non c'è nulla al di fuori dell'ordinario. Alla ricerca di nuove informazioni, i detettivi richiedono i tabulati del cellulare di Heather. Poi, alla luce del giorno, passano a setaccio la sua macchina. Cercano tracce di DNA, fibre, qualsiasi cosa possa rivelarsi utile. Ma, dopo una curata analisi, le autorità non trovano nulla di sospetto. La polizia così torna all'attacco organizzando delle squadre di ricerca. Ricominciano a guardarsi intorno in cerca di qualche indizio che magari gli era sfuggito. Inoltre, per farsi un'idea della vita sociale di Heather, le autorità si dirigono nel ristorante in cui lavorava. Questo è un bar-ristorante con uno stile un po' particolare, diciamo così. Le cameriere, infatti, indossano vestiti particolari, un po' scolacciati. Sono tutte quante molto, molto belle. Il cibo, però, a quanto si dice, è alquanto mediocre. Jessica Cook è una manager del locale di Capo di Heather ed è la responsabile della zona riservata al pubblico. Quindi, Jessica Cook si prende cura delle cameriere e si occupa di ogni cosa visibile ai clienti. Quindi gestisce bar, ingresso e sala. Inoltre, deve organizzare i turni di tutto lo staff a contatto col pubblico. Jessica sostiene che Heather era una ragazza molto, molto vivace. Cosa ideale per chi fa la cameriera in questi tipi di locali. Heather comunque è molto brava, non sta mai con le mani in mano. Accoglie i clienti, li fa sentire a loro agio. Passa spesso tra i tavoli per chiedere se vada tutto bene. E quindi, ben presto, tutti quanti in quel locale iniziano a volerle un gran bene. La polizia a questo punto entra nel locale e chiede a Jessica Cook se per caso qualcuno sa dove potrebbe trovarsi Heather. Jessica Cook risponde alla polizia che se vogliono scoprire qualcosa, dovrebbero interrogare Sidney Moorer. Ma chi è Sidney Moorer? Ebbene, l'uomo era stato assunto come manutentore e aveva cominciato a lavorare al locale nel aprile del 2013. L'uomo andava sempre dopo la chiusura al locale per risolvere qualsiasi tipo di problema. Si era dimostrato un uomo estroverso, simpatico, scherzava facilmente con tutti. Poi però era giunta una sera, una sera in cui la direzione del locale aveva offerto il biglietto per una partita di baseball al Pelican Stadium a tutto lo staff. Dopo la partita le ragazze erano tornate al ristorante e Sidney era già lì. Ovviamente, stava lavorando. Heather era uscita in veranda e quindi aveva iniziato a scherzare con Sidney. Hanno iniziato a chiacchierare, poi la ragazza era andata direttamente nell'ufficio di Jessica Cook, il suo capo, per dirle che Sidney secondo lei era carino. Insomma, le piaceva. Presto anche Sidney pare dimostrare interesse per Heather. L'uomo, come già vi ho detto, lavorava la sera quando il locale era chiuso, ma ad un certo punto ha iniziato a recarsi al locale sempre prima del suo orario di lavoro. Anche durante il suo giorno libero, per portare a Heather dei dolci, del caffè, del tè, entrava, si fermava un po' a parlare con Heather e poi semplicemente se ne andava. Secondo ciò che dice Jessica, la loro storia era progredita alquanto in fretta, in quanto un giorno, mentre il telefono di Heather era in carica nel suo ufficio, aveva preso un'informazione che l'aveva lasciata davvero senza parole. Jessica in pratica racconta ai detective che il telefono di Heather continuava a illuminarsi. Le arrivavano messaggi in continuazione, quindi alla quindicesima volta aveva preso il telefono per guardare chi era, perché magari era un'emergenza familiare. E invece quei messaggi era Sidney a scriverli. Jessica è stata presa alla sprovvista, ha letto velocemente qualche messaggio, per poi rendersi ben presto conto che i due avevano una relazione fisica. Jessica rimane sorpresa principalmente per un motivo, Sidney è molto ma molto più grande di Heather. Infatti Heather ha 19 anni, Sidney ne ha quasi 40. Però, nonostante la differenzialità, il loro legame sembrava sincero. Loro due sorridevano sempre, parlottavano di continuo. Insomma, è chiaro ormai che provavano dei sentimenti l'uno per l'altra. Verso l'autunno la loro relazione ha continuato ad evolversi. Infatti i due pare si siano proprio innamorati. A distanza di pochi mesi, però, Heather inizia a ricevere dei messaggi allarmanti. Tutto inizia nei primi giorni del mese di novembre, quando Heather inizia a ricevere messaggi cattivi e pieni zeppi di offese. Non sa chi sia a inviarli, ma sono abbastanza inquietanti, insomma. C'è però un messaggio che non lascia Alito a dubbi sull'identità del mettente. In quanto, in quel messaggio c'è scritto Quindi Heather non solo aveva una relazione con un uomo più grande, ma anche con un uomo sposato. A questo punto, chiaramente, Heather aveva iniziato a spaventarsi. Temeva che Tammy piombasse nel ristorante in cui lavorava per fare qualche scenata. Heather viveva nel terrore. Pensate che Tammy arriva a mandarle una foto in cui Sydney le fa cose orali. E io onestamente credo sia davvero da fuori di melone a fare una cosa del genere. Tammy stava perseguitando una ragazza di 20 anni che non era assolutamente avvezza a certi comportamenti. E ha le dinamiche di quella relazione chiaramente possessiva tra un uomo di 37 anni, ossia Sydney, e una donna di 40 anni, ossia Tammy, con tre figli al seguito. Quando è stato chiaro che Tammy non aveva intenzione di desistere, Heather si era fatta indietro e aveva chiuso la storia con Sydney, perché a quel punto era davvero senza parole sconvolta dalla situazione. Intanto per la polizia, quello che si era palesato come un caso molto confuso e fumoso, inizia a prendere forma finalmente. All'inizio, l'indagine riguardava una ragazza scomparsa, ma a questo punto si parla di un triangolo amoroso particolare, un po' sospetto. I detective riescono a ottenere da Jessica Cook il numero di Sydney, quindi lo contattano. In realtà i detective vogliono solo sapere se per il caso l'uomo ha parlato con Heather di recente, ma Sydney risponde che in realtà lui Heather non la sentiva da davvero tanto tempo. Però nel corso della conversazione Sydney aggiunge, Beh, in effetti, in realtà, l'ho chiamata la scorsa notte, ma l'ho fatto solo per dirle di smetterla di infastidirmi con le sue continue chiamate. La gente a questo punto è perplesso. Prima Sydney ha affermato di non sentire Heather da tempo, e poi dunque al po' ha ammesso di averle parlato proprio nel periodo della sua scomparsa. Alla fine, per sicurezza, viene mandata una pattuglia per interrogare Sydney Moorer, in modo, insomma, da mettere un po' di ordine nelle sue dichiarazioni. Mentre due agenti si dirigono dai Moorer, altri cominciano a scavare nel passato di Sydney. Sydney Moorer era nato il 14 gennaio del 1976 in California, e tutto sommato aveva avuto un'infanzia felice. Era cresciuto nella classica famiglia americana per bene. Nel 1997 era nato via di casa per raggiungere Myrtle Beach in cerca di lavoro. L'uomo era un manutentore meccanico, lavorava a molti ristoranti situati nella via principale, e proprio in uno di questi ristoranti aveva conosciuto Tammy. I due avevano gli stessi gusti musicali, e da quel momento era nata la loro storia. Tammy Moorer e la sua famiglia si erano stabiliti a Myrtle Beach ormai da generazioni. A liceo Tammy era stato un membro del club di arte, e della redazione del giornalino scolastico. Spesso scriveva di musica. Sydney e Tammy dopo poco tempo avevano deciso di sposarsi, e dopo il matrimonio Sydney aveva deciso di rompere ogni contatto con la sua famiglia in California. I parenti di Sydney sostengono che in realtà era Tammy a comandare in casa. Era chiaro insomma che volesse avere tutto sotto controllo, soprattutto suo marito. I due hanno anche avuto tre figli, e in effetti dall'esterno la famiglia Moorer sembra la classica famiglia felice. Intanto gli agenti si dirigono dai Moorer proprio per chiedere a Sydney della sua relazione con Heather. L'uomo esce di casa e si dirige quindi verso gli agenti per parlargli. L'agente chiede a Sydney che rapporto abbia con Heather. Sydney risponde, non ha nessun rapporto, ma in passato sì. Abbiamo avuto una relazione. Ma poi l'ha interrotta. Quindi Sydney ammette di aver avuto una relazione con Heather, ma dice agli agenti che l'aveva lasciata a inizio novembre, proprio col fine di tornare con sua moglie. Ha dichiarato che Heather gli lasciava dei bigliettini sul pick-up. Cercava di contattarlo, quindi quella notte l'aveva chiamata solo e soltanto per dirle di lasciarlo in pace. La relazione era terminata circa un mese e mezzo prima, e gli agenti trovano strano che Sydney abbia chiamato Heather proprio durante la notte del 18 dicembre. Gli chiedono se per caso era andato nella zona di Peachtree Landing, ma Sydney dice che no, non c'era andato. Non ho idea di cosa sia successo a Heather, anzi dice ai detective che a quell'ora lui stava dormendo. Ma non solo, dice addirittura che precedentemente era stato ammanettato a letto da sua moglie come punizione per la sua relazione extraconiugale. Solo Tammy aveva la chiave, quindi solo Tammy poteva liberarlo. Agli agenti di polizia quello pare un alibi parecchio bizzarro. Sintono proprio che c'è qualcosa che non va. Per avere più informazioni sulla storia tra Stephen ed Heather, i detective contattano la migliore amica di Heather, Brianna, che dà una versione parecchio diversa dai fatti. Brianna, la conculina di Heather, sostiene che proprio in quel giorno era tornata in New Jersey e al 1.44 di notte Heather l'aveva chiamata. Stava piangendo disperata e era in iperventilazione. Heather racconta alla sua amica che Sydney l'aveva chiamata. Le aveva detto che aveva lasciato la moglie per lei e che ora voleva incontrarla. Heather, dal canto suo, era combattuta. Non sapeva se uscire per andare subito a parlare con Sydney. Non era sicura della sua sincerità e inoltre era ancora terrorizzata da Tammy. Brianna, dal canto suo, la sua migliore amica, le aveva consigliato di non uscire. Avrebbe dovuto ignorarlo perché lui le aveva già spezzato il cuore una volta. Perché continuare a portare avanti qualcosa che la faceva stare male? Brianna, infatti, aveva detto a Heather di dormirci su, di non uscire, di prendersi del tempo per pensare. Specialmente a se stessa e a quello che l'avrebbe resa davvero felice. Il racconto di Brianna getta altrettante ombre sulla versione di Sydney, il quale aveva detto che lo scopo della chiamata era di dire a Heather di lasciarlo stare, di lasciarlo in pace. Questa, però, non è proprio la stessa versione che ha raccontato Brianna. Dopo aver appreso questi due resoconti così tanto contrastanti, la polizia riesce finalmente a ottenere i tabulati telefonici di Heather, su cui erano riportate tutte le chiamate ricevute la notte della sua scomparsa. I detective, quindi, hanno scoperto che la chiamata che Heather ha ricevuto prima di sentire Brianna proveniva da una cabina telefonica situata non troppo lontano nello spiazzo di un distributore di benzina. Non c'era da dimenticare, inoltre, che era notte. Sembrava, insomma, che qualcuno avesse provato a contattarla mantenendola anonimato. I detective a questo punto vanno al distributore e ottengono i video di sorveglianza. E mentre visionano questi filmati, effettivamente notano la persona che aveva effettuato quella chiamata al telefono di Heather. Il video sicuramente abbassa la definizione, ma si riuscivano a distinguere tranquillamente gli abiti che indossava. E, insomma, quello sicuramente era un uomo. Era entrato nella cabina telefonica proprio nella stessa ora in cui Heather aveva ricevuto la chiamata. Che, per l'appunto, proveniva proprio da lì. Gli agenti arrivano ben presto a una conclusione. L'uomo del filmato è Sidney Moorer. Colui che ha detto agli agenti che quella notte era a letto. E addirittura legato, quindi non sarebbe potuto andare da nessuna parte. In pratica, beh, Sidney stava mentendo ai detective e lo stava facendo proprio in modo spudorato. Armati quindi della prova, delle menzogne di Sidney, i detective lo richiamano per interrogarlo, sfruttando chiaramente il loro vantaggio. Sidney si presenta tranquilla in centrale e non ha idea di che cosa abbia scoperto la polizia. Iniziano così a interrogarlo, gli chiedono dove lavora. E Sidney risponde, beh, lavora in parecchi locali della città. I detective quindi continuano, e che ci fai in quei locali? Sidney risponde, faccio il manutentore tecnico. Le autorità continuano con le domande, gli chiedono, lavora da solo? Lui dice, no, lavoro con mia moglie. Solo con lei, eravamo insieme quella notte. Il detective giustamente chiede se quella notte erano rimasti a casa oppure se erano andati fuori città. Sidney risponde, non voglio entrare nei particolari ma abbiamo ricucito il rapporto. L'abbiamo fatto due volte in diversi parcheggi. Mi state dicendo che il matrimonio tra Sidney e Tammy era in difficoltà? E loro, per cercare di recuperarlo, andavano a fare cosacci in macchina nei parcheggi? Perdonatemi, ma per me non ha il minimo senso. La polizia successivamente chiede a Sidney di ricordare la sua ultima conversazione avuta proprio con Heather la notte della sua scomparsa. I detective quindi chiedono a Sidney, di cosa avete parlato? Romo risponde, mi ha chiesto di vederci. Ed io le ho risposto che stavo cercando di salvare il matrimonio, di rimediare i miei errori. Quindi non potevamo più frequentarci o fare nient'altro. Mi ha mandato a quel paese e ha riattaccato. Ho messo il telefono in silenzioso e lei mi ha richiamato per tre o quattro volte. Ma non ho risposto perché non me ne ero neanche accorto. I detective chiedono, ma per caso le ha detto dov'era? Sidney risponde, no, mi ha solo detto che voleva vedermi. Altra domanda da parte dei detective, ha per caso usato qualche altro telefono, magari quello di sua moglie? La risposta di Sidney è secca, no. Il punto è che i detective in precedenza hanno parlato con Brianna, quindi sono consapevoli del fatto che Sidney stia continuando a mentire. Infatti insistono e chiedono a Sidney, ma è sicuro? Non è che ha chiamato da una cabina telefonica? Sidney risponde, no, perché? Ma esistono ancora? I detective a questo punto non possono far altro che scoprire le loro carte. Quindi dicono a Sidney, è stata fatta una chiamata a Ether quella notte, dalla cabina del distributore sulla 10th Avenue. Abbiamo anche il video, è sicuro che non l'ha chiamata neanche per un momento? Sicuro, sicuro? A questo punto Sidney risponde, beh, oddio, ma può essere che l'abbia chiamata? I detective si guardano, lo guardano e dicono, ok Sidney, rincominciamo da capo allora. Sidney guarda i detective e dice, ok, ok, lo ammetto, l'ho fatto, l'ho chiamata da una cabina telefonica. I detective continuano a fargli domande, infatti gli chiedono se è mai andato all'attracco di Peachtree Landing. Sidney con molta tranquillità risponde, ma ci sarò stato un centinaio di volte. I detective però sono interessati a quando c'è stato l'ultima volta e Sidney risponde, no, no, è passato tanto tempo, sarà passato un anno ormai. I detective immaginano che Sidney sia coinvolto, ma non è un reato chiamare qualcuno di scomparso. Quindi, dopo questo interrogatorio, lascia la centrale da uomo libero. Qualche giorno dopo la scomparsa di Heather, un paio di agenti si recano a casa dei Moorer. Non hanno un mandato di perquisizione, ma la donna li fa entrare ugualmente. Le autorizza a dare un'occhiata sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, senza però scavare troppo in profondità. Gli agenti non possono prelevare nulla, quindi scattano qualche foto, nell'attesa di ritornare in quella casa con un mandato di perquisizione. Durante tutto il sopralluogo, Tammy sta attaccata alle autorità. Dice loro quello che possono e non possono osservare. Ad un certo punto, le autorità chiedono anche di poter guardare il pick-up di famiglia, che di solito però guida suo marito. Ma Tammy sostiene di non avere le chiavi. Cosa strana, visto che il veicolo è nel vialetto. Ma c'è anche un altro particolare che gli investigatori notano in questo caso. Ossia il sistema di videosorveglianza, che sembra funzionante sia all'interno della casa, sia all'esterno. I detective quindi individuano le variette le camere, stando attenti a non far capire a Tammy il loro interesse. Quelle delle camere, nello specifico, devono per forza aver immortalato quanto è accaduto dentro quella casa la notte della scomparsa di Heather. E in effetti, qualche giorno dopo, per l'esattezza il 23 dicembre, la polizia ottiene un mandato di perquisizione. Col fine di poter prelevare delle prove a casa dei Murer. I detective quindi iniziano immediatamente a effettuare una perquisizione. E la prima cosa che notano è proprio il sistema di videosorveglianza. Le telecamere non sono le stesse che gli agenti hanno visto con il primo sopralluogo che hanno fatto in quella casa. Sono proprio totalmente diverse. Quindi i Murer hanno sostituito il vecchio sistema di videosorveglianza con uno nuovo, che ovviamente non aveva registrato nulla prima del 21 dicembre. Questo fatto ovviamente ostacola le indagini. Per di più, quella sostituzione del sistema di videosorveglianza non torna. Ragazzi, ragioniamoci un attimo. Se possiedi un filmato che è in grado di dimostrare che il tuo veicolo non si è mosso da casa, la notte tra il 17 e il 18 dicembre, di fatto hai un alibi inattaccabile. Il punto è che i Murer, quell'alibi, l'hanno cancellato, l'hanno distrutto. La domanda sorge spontanea. Siamo sicuri che i Murer attraverso quei filmati avevano un alibi? Oppure il sistema di videosorveglianza di casa loro, più che scagionarli, li incriminava? In ogni caso, presto la famiglia Murer passa all'offensiva e Temmi, sui social network, inizia a scrivere ogni tipo di ingiuria, commenti offensivi e volgari, su Eder. Il Natale si avvicina sempre di più. Di solito il periodo natalizio è un periodo felice, perché la famiglia si riunisce. Ma la famiglia di Eder purtroppo sa che quello non sarà un Natale come gli altri. Anzi, sarà il peggior Natale della loro vita. Man mano che la copertura mediatica del caso aumenta, su internet iniziano a circolare delle voci sulla relazione tra Eder e Sidney. E Temmi di certo non rimane le a guardare, per niente. La donna si sente messa in ridicolo, quindi cosa fa? Si logga su Facebook e inizia a pubblicare altrettanti post orribili su Eder. Tra le altre cose l'ha definita una stupida puttana e dopodiché ha continuato scrivendo mio marito si è portato a letto una toglietta da quattro soldi. A me a questo punto, ragazzi, perdonatemi, la domanda mi sorge palese. Ma questo che diamine di comportamento è santo cielo. Tutto a posto? Una ragazza è sparita. Era l'amante di tuo marito e tu svegliona, ti metti a scrivere degli stati del genere su Facebook. Ve lo giuro, in questo momento, quando leggevo questa cosa ho pensato ma Temmi ha 40 anni oppure ne ha 14? Perché davvero le sue mosse sono di un'infantilità imbarazzante. Imbarazzante. Però, nonostante il comportamento sempre più sospetto dei Murer, le autorità faticano a formulare le accuse. Non hanno in effetti un motivo fondato per arrestare Sidney per la scomparsa di Eder in quanto non c'è un corpo, non c'è niente che indichi che sia avvenuto un crimine, non c'è nessun'arma, insomma, non ci sono prove. Finalmente però la polizia riceve i dati richiesti all'operatore telefonico di Eder ed è a questo punto che le cose cambiano. Perché le autorità riescono ad acquisire parecchie informazioni sulla posizione del cellulare di Eder. Dopo aver telefonato alla cabina telefonica e dopo aver sentito Brianna, che le aveva consigliato di non vedere Sidney, Eder aveva comunque deciso di uscire, quindi aveva preso le chiavi della macchina ed era uscita di casa. Dai tabulati emerge che Eder, verso le 3.38, aveva provato a chiamare Sidney. E in quel momento Eder era già a Pitchtree Landing, però alle 3.42 il cellulare risultava staccato e da quel momento non si era più collegato a nessuna cella. Ciò indicava che doveva per forza essere successo qualcosa, in quanto prima Eder continuava a fare chiamate, poi di colpo il telefono aveva smesso di dare segnali. La polizia in realtà non sa in quel momento dove si trovi Sidney. Ma dopo qualche settimana una vicina di casa dei Murer contatta alle autorità per dir loro di avere delle informazioni interessanti. La donna in questione chiama le autorità e dice Sentite, io ho seguito tutta la vicenda su Facebook e so che il veicolo di Eder è stato trovato a Pitchtree Landing. Sappiate che se Sidney è andato a Pitchtree Landing, le mie telecamere di videosorveglianza l'hanno ripreso. E in effetti il video fornito dalla vicina di casa dei Murer mostrava un veicolo proveniente dalla casa dei Murer che andava verso Pitchtree Landing. E poco dopo lo stesso veicolo ripercorreva la stessa strada ma al contrario. Le autorità non sono riuscite a mettere a fuoco la targa della macchina da quei video. Secondo loro quella non può essere una coincidenza. Perché la macchina del video sembra proprio il pick-up F-150 nero dei Murer. L'orario in cui il pick-up raggiunge Pitchtree Landing corrisponde a quello in cui il cellulare di Eder si è spento per sempre. Questo ovviamente è una vera e propria svolta del caso. Armati di queste nuove prove la polizia richiede un mandato di perquisizione. E la mattina del 21 febbraio 2014 stringe la presa proprio attorno ai Murer. All'interno della casa la polizia trova un gran disordine. Ci sono patate ammuffite, carne avariata. Inoltre c'è spazzatura sparsa per tutta la cucina. Le camere dei loro figli sono piene zeppe di immondizia. Insomma quel posto è davvero un disastro. In questa occasione le autorità requisiscono la maggior parte delle possibili prove. Li portano via computer, diversi fucili e anche una pistola. La polizia confisca anche il pick-up Ford F-150. Poi sulla scia delle nuove prove gli agenti preparano la loro nuova mossa. Perché oltre al mandato di perquisizione la polizia ha ottenuto anche un bel mandato di arresto. Questo vuol dire che Sidney e Tammy vengono messi in manette. Il 24 febbraio del 2014 il capo della polizia rende note le accuse durante una conferenza stampa. Dice proprio queste parole. Siamo giunti alla conclusione che Tammy e Sidney Moorer siano i responsabili della scomparsa di Heather Elvis e di conseguenza della sua morte. I due coniugi sono quindi accusati di aver sequestrato e ucciso di conseguenza Heather. Un giudice stabilisce che Sidney e Tammy siano processati separatamente. E il primo processo che avviene è quello di Sidney. I procuratori quindi si affrettano a concretizzare le accuse. Perché questo in realtà è un caso molto particolare che si basa solo su prove indiziarie. Il procuratore affida il caso a un membro esperto della squadra. Nancy Livesay, procuratrice della contea di Horrey. La donna inizia a lavorare all'accusa dei Moorer intorno al 2015. Mentre lo scalpore per le accuse di omicidio e di sequestro aumentano, Sidney chiede a uno dei più noti difensori del Sud Carolina di rappresentarlo. L'uomo assume Kirk Traslow, un avvocato che nell'eule di tribunale di certo non va per il sottile. Inoltre ha un modo di fare molto molto diretto che alla gente resta impresso. E questa è una cosa molto importante per i processi in America. L'avvocato deve essere convincente. Kirk, l'avvocato di Sidney, comunque sostiene che fin dall'inizio sono partiti in svantaggio. In quanto la comunità si era già fatta un'idea bella ampia sulla situazione. In realtà però c'è da dire che gli abitanti dell'intera contea si sono schierati. Alcuni dalla parte degli Elvis, altri dalla parte dei Moorer. Inoltre, attenzione qui, la follia fino a dove arriva. Tammy, Sidney e i loro parenti hanno chiesto l'amicizia ad ogni singolo contatto della famiglia Elvis. Col solo fine di riempirli di messaggi. Ovviamente il contenuto di questi messaggi non era affatto lusinghiero nei confronti di Heather. Arriviamo al 10 marzo del 2016, quando l'ufficio del procuratore dà una notizia, ahimè, alquanto sconvolgente. L'accusa di omicidio verso Tammy e Sidney viene ritirata. Secondo la polizia, i due hanno sequestrato e ucciso Heather nel dicembre del 2013, ma il corpo non era ancora stato ritrovato. E questo era un gran bel problema. Questo però significa anche un'altra cosa. Nonostante tutte le prove raccolte a casa dei Moorer, le autorità non hanno trovato niente che potesse incriminare la coppia anche per omicidio. Nella macchina, nelle armi mostrano qualche traccia fisica o di DNA. La polizia in pratica non ha trovato niente che si rivelasse utile. In questo caso però, tra tutte le prove mancanti, chiaramente ce n'è una che spicca più delle altre, il corpo di Heather. Se il corpo della vittima non viene ritrovato, di solito bisognerebbe avere una grandissima quantità di prove. Il punto è che per questo caso non è affatto così. L'accusa è consapevole che Heather non sarebbe mai più tornata a casa in vita, a causa dei mure. Ma tra sapere qualcosa e poterla provare, ci passa un mare. A questo punto il team dell'accusa ha contato la famiglia di Heather, ossia la famiglia Elvis, e gli avvisa che si sarebbero concentrati su ciò che si poteva dimostrare. Secondo loro era possibile dimostrare il sequestro di persona, il rapimento, ma non l'omicidio. Il 20 giugno del 2016 inizia il processo a Sidney Moorer. Il team dell'accusa è composto da Nancy Livesey e da Martin Spratling. La strategia dell'accusa è dimostrare che il colpevole non può essere nessun altro a parte Sidney Moorer. Al processo il loro primo obiettivo è quello di escludere qualsiasi altra ipotesi. Vogliono dimostrare che Heather era stata tirata fuori dalla sua abitazione, dove era chiaramente al sicuro, per recarsi in un luogo pericoloso e buio, dove poi, per l'appunto, era stata rapita. Kirk Traslow ovviamente dà vita alla sua ring iniziale, solo e soltanto per ridicolizzare quella dell'accusa. Anche se ciò che dice, di base, è la verità. L'accusa non ha spiegato cosa sia successo a Heather. Era stata rapita? Dove? E dove era stata portata? L'unica cosa sicura è che Sidney, intorno a quell'ora, erano i dintorni e avrebbe potuto farlo. Ma non c'è una scena del crimine. Non ci sono segni di collutazione. Non ci sono prove fisiche. Non è stato rilevato nessun tipo di DNA, né nel pick-up dei Murer, né nell'auto di Heather. Poi l'accusa chiama una testimone chiave, Jessica Cook, la manager del Tilted Kilt. Il suo ruolo è spiegare chi era Heather e chi era Sidney. Ma soprattutto, Jessica deve spiegare che il rapporto tra loro due era sempre stato parecchio stretto, quasi fin dal momento della scomparsa di Heather. Nancy Livesey chiede a Jessica Cook se per caso Heather, prima di sparire, aveva avuto qualche cambiamento fisico importante. Jessica risponde sicura. Sì, io mi occupo delle divise del ristorante. Vale a dire che il reggiseno, coprispalle e minigonna sono forniti da noi. Nell'autunno del 2013, Heather era passata da una prima ad una terza di reggiseno e anche la gonna le stava stretta. Ovviamente Heather aveva iniziato un po' a preoccuparsi e Jessica, a distanza di qualche giorno, aveva chiesto ad Heather se per caso c'era la possibilità che fosse incinta. Heather era sbiancata di colpo e poi semplicemente aveva annuito. Durante il periodo della relazione con Sidney, Heather non aveva frequentato nessun altro, quindi se era incinta, il padre per forza doveva essere Sidney. Se davvero Heather portava in grembo il figlio di Sidney e Tammy nera conoscenza così come Sidney, beh, quello sì che era un movente bello e buono. Per avvalorare una prova fondamentale, l'accusa chiama a testimoniare un esperto di analisi video. Il suo nome è Grant Fredericks. Il video di sorveglianza più importante del processo proviene da una piccola attività che si trova sulla strada per raggiungere l'altracco di Pitch Tree Landing. Quel video mostra un veicolo che transita su quella strada intorno alle 3.35 di notte. Grant Fredericks ha analizzato quel filmato in bianco e nero e piuttosto sgranato, ricorrendo all'analisi degli schemi di diffusione dei fanali. In pratica sostiene che le luci dei fari interiori di ogni veicolo illuminano la strada in modo diverso. L'uomo dichiara di essersi recato sul luogo alla stessa ora della notte in cui era stato registrato il video e di aver guidato una serie di veicoli diversi davanti alla videocamera di sicurezza. In pratica era necessario il passaggio di diversi pick-up davanti allo stesso sistema di videosorveglianza per riprodurre le condizioni di quella notte. Il fine era quello di escludere che si trattasse di un pick-up diverso da quello di Sydney. La testimonianza di Grant insieme ai tabulati telefonici dipingono in un scenario alquanto inquietante di ciò che potrebbe essere avvenuto, in quanto l'orario in cui il pick-up ha raggiunto Pitch Tree Landing corrisponde a quello in cui il cellulare di Ether si è spento per sempre. Poco dopo, dalle immagini di videosorveglianza, si vede lo stesso pick-up passare di nuovo davanti alle telecamere, proprio verso casa dei Murer. Le domande sono tante. Ether era nel pick-up? L'avevano rapita i Murer? E chi guidava il pick-up quella sera? Sydney o Tammy? Questo, ahimè, resta un mistero. Durante il controinterrogatorio, Kirk Traslow mette in dubbio la metodologia di Grant Fredericks. In pratica sostiene che il video non mostra nulla che possa valere come prova certa. La testimonia successiva è Amelia Betia, membro delle forze dell'ordine e dello Stato. La donna è in possesso di... dei video parecchio interessanti, risalenti alla notte in cui Ether è scomparsa, che riprendono Sydney Murer. In effetti, nel primo interrogatorio, Sydney ha ammesso di essersi fermato in un centro commerciale, ma è ciò che ha acquistato in quel centro commerciale ad attirare l'attenzione dell'accusa. In quel filmato si vede chiaramente Sydney che gira tra gli scaffali. Sembra stia cercando qualcosa di specifico. Poi, prende un oggetto da uno degli scaffali in alto e si dirige alla cassa a pagare. Dallo scontrino risulta che ha acquistato un test di gravidanza e un pacchetto di sigarette. Il test di gravidanza era stato acquistato a lunediciannove. Una volta uscito dal supermercato, Sydney si era diretto alla cabina telefonica. E aveva chiamato Heather Elvis a lunedire. Le prove indiziarie e la logica fanno chiaramente pensare che l'uomo avesse contattato la persona per cui aveva comprato il test. A questo punto, Sydney si innervosisce parecchio e piuttosto che chiedere di testimoniare in tribunale, chiama i giornalisti e spiega che quel test, lui, l'acquistato per sua moglie Tammy, Sydney sostiene che Tammy il test l'ha fatto la stessa notte. E a me in questo caso è sorto un dubbio. Non so se ora le cose siano cambiate e io sia rimasta indietro. Ma il test di gravidanza di solito non si fa di prima mattina, appena ci si sveglia? Comunque, quanto dice Sydney, il test è risultato negativo. Il punto è che il comportamento di Sydney è profondamente subdolo. Non si rilasciano dichiarazioni esterne durante un processo per poi rifiutarti di testimoniare in tribunale per non dover rispondere alle domande dell'accusa. Comunque, ben presto arrivano le arringhe finali e poi tocca alla giuria. Presto però il processo viene scosso da un colpo di scena. Le deliberazioni sono durate quasi nove ore, ma la giuria non ha raggiunto un verdetto unanime. Questo vuol dire che il processo è dichiarato nullo. È da rifare. Per l'accusa, ovviamente, questo risultato è un fallimento. Ora devono rincominciare tutto da capo. Ma devono anche fare un passo indietro e chiedersi in cosa potrebbero migliorare. Con l'annullamento del processo, comunque, il team dell'accusa è stordito. Ma prima ha un altro bel problemino da gestire. Perché il 9 ottobre del 2018 comincia il processo a Tammy Moorer. L'accusa a questo punto sapeva, grazie al processo nullo, di dover combattere. Davanti a loro avevano una vera e propria sfida. In quanto erano in possesso di meno prove rispetto a quelle a carico di Sidney. La ringa iniziale viene presentata alla giuria da un nuovo membro del team dell'accusa, Chris Helms. L'uomo inizia la sua ringa anticipando la difesa. Dice che sì, quello è un caso basato su prove indiziarie. Però le circostanze non cambiano. I resoconti dei sestimoni, sì, la memoria può ingannare. Ma le circostanze non cambiano. Il fatto che il pick-up dei Moorer fosse andato all'attracco non era in discussione. Il fatto che Sidney avesse fatto quella chiamata a Ether tramite la cabina telefonica non era in discussione. Helms a questo punto delinea un triangolo amoroso e spiega che Tammy Moorer era talmente furiosa e gelosa della relazione tra Ether e suo marito Sidney che era riuscita a convincerlo a rapire Ether. L'avvocato di Tammy, Greg McCollum, ovviamente sostiene l'innocenza della sua cliente. Sostiene che l'accusa voglia trasformare Tammy nel capo espiatorio, nell'unica responsabile. In realtà però lei è impaziente di testimoniare e di dire la sua verità perché si dichiara innocente, dice di essere innocente. Per approfondire le dinamiche interne del matrimonio dei Moorer, dopo la storia tra Sidney ed Ether, l'accusa chiama a testimoniare Jacob Melton, un amico della famiglia Moorer che ha trascorso parecchio tempo a casa loro. E in effetti durante questa testimonianza è emerso un dettaglio, ossia Sidney aveva fatto vedere a Jacob un nuovo tatuaggio. E che cosa rappresentava questo nuovo tatuaggio? il nome di sua moglie. Tammy, quel tatuaggio si trovava sul ventre, appena sopra l'ombelico. La donna in pratica lo aveva obbligato a tatuarsi il suo nome col fine di marchiarlo. L'accusa gioca tutte le sue carte per questo processo. Chiama alla sbarra ben 30 testimoni che hanno dipinto l'immagine di una donna ossessiva, manipolatrice, molto vendicativa, ma soprattutto davvero furiosa per il fatto che il marito, più giovane di lei, avesse avuto una relazione con una ragazza ancora più giovane. Bisogna dire che Tammy in realtà ha punito Sidney in diversi modi per quella relazione. Ad esempio, gli bloccava il telefono. Sidney il telefono poteva usarlo solo con la password che decideva lei. Pretendeva che stesse un insieme 24 ore su 24, non perdeva mai d'occhio il cellulare di suo marito. E se qualcuno chiamava Sidney, Tammy voleva assistere alla conversazione. Era arrivata ad ammanettare il marito di notte a letto per non farlo scappare. L'accusa a questo punto non chiama altri testimoni e gli occhi si posano su Tammy, che il nono giorno di processo sale sul banco dei testimoni. Greg McCollum, l'avvocato di Tammy, inizia a chiederle come abbia vissuto col peso delle accuse e contro di lei, che ormai vanno avanti da cinque anni. In pratica, il fine è suscitare compassione nella giuria. La sua vita in effetti era rovinata, non vedeva più i suoi figli, aveva perso suo padre e non era potuta andare al funerale perché era in carcere. A questo punto l'avvocato di Tammy dice di non avere altre domande e la palla passa all'accusa. Nancy Lipsay non si lascia certo sfuggire gli stati che ha pubblicato Tammy su Facebook. Quindi parte a cannone dicendo, sbaglio! O lei ha scritto, Sidney mi ha tradita nel mese di settembre e ottobre con quella stupida puc... Per me quella stronza si è nascosta, non è di certo scomparsa. Per caso queste sono parole sue? Tammy risponde, beh, se ce le ha scritte lì sì, è ovvio. Nancy Lipsay a questo punto chiede a Tammy, ok, e perché pensava che Heather si nascondesse? Tammy risponde, mi stavo solo sfogando in quel momento. Nancy, non so che altro dire. A questo punto la donna si rigidisce e dice a Tammy, ci siamo mai incontrate fuori da quest'aula? Tammy risponde, no, non credo. Nancy quindi ribatte, bene, la prego allora di non chiamarmi più per nome. Sembra che Tammy abbia provato a porsi allo stesso livello della procuratrice, ovviamente commettendo un enorme errore. Dopo due giorni di testimonianza arrivano le arringhe finali e poi di nuovo tocca alla giuria. Dopo appena tre ore la corte viene richiamata in aula. La giuria ha raggiunto un verdetto e ritiene l'imputata colpevole di sequestro di persona. Viene condannata a 30 anni per sequestro e ad altri 30 anni per concorso il sequestro. Nonostante la condanna di Tammy però continuano ad esserci delle domande senza risposta. Quella più importante è dove è Heather o quantomeno dove è il suo corpo. L'accusa comunque sa che la storia è tutt'altro che finita perché manca il secondo processo a Sidney Moorer per sequestro di persona. E nel settembre del 2019 inizia questo secondo processo a Sidney Moorer. L'accusa presenta una lista di testimoni identica a quella del processo precedente. Introducendo però una prova fondamentale. La prima volta che la polizia era entrata a casa dei Moorer aveva per l'appunto notato un sistema di videosorveglianza con più telecamere. Ma non aveva fatto in tempo a tornare col mandato che la coppia si era affrettata a sostituirlo con uno nuovo. C'è da dire che comunque la polizia ha controllato i filmati del nuovo sistema di videosorveglianza dei Moorer. E in effetti ha scoperto un video molto importante registrato due giorni dopo la scomparsa di Heather. Si vedono chiaramente a figura intera Tammy, Sidney, la sorella di Tammy, Ashley e il suo fidanzato. All'inizio sembrano intenti semplicemente a portare le borse della spesa dentro casa. Ma poi, pochi minuti dopo, cominciano a pulire il pick up. Nulla di strano? Beh, qualcosa di strano c'è in realtà. Perché non si dedicano al lavaggio della carrozzeria, ma stanno per ore a pulire la macchina all'interno. Dopo circa 30 minuti dall'inizio dell'operazione, Sidney accende un falò dalla parte laterale del cortile e brucia gli stracci usati per la pulizia. E ovviamente questa situazione risulta alquanto strana perché gli stracci non si bruciano. Al limite dopo averli utilizzati, li si lava per poterli riutilizzare. Quel filmato dura ben 4 ore. Vuol dire che 4 persone si sono messe per 4 ore a pulire ogni singolo millimetro di quella macchina. Ovviamente questo filmato così lungo suggeriva, quasi senza ombra di dubbio, che Heather fosse salita su quel pick up. La coppia chiaramente non voleva che rimanesse una sola prova utile nel veicolo. La giuria si ritira per deliberare e dopo un'ora e mezza, Sidney Murer viene dichiarato colpevole di sequestro e concorso in sequestro. Per la scomparsa di Heather Elvis. Il punto che a lui danno 10 anni e io questa cosa non l'ho capita. Ma perché sua moglie si deve scontare 60 anni mentre lui se ne deve scontare solo 10? Non mi è chiaro. La cosa più triste in questo caso è che nonostante i colpevoli siano stati arrestati, il corpo di Heather non è ancora stato ritrovato. E purtroppo sono già passati più di 7 anni. La speranza ovviamente è che i colpevoli prima o poi parlino e dicano dove abbiano nascosto il corpo della ragazza. Almeno per darle una degna sepoltura. Detto questo ragazzi, io ho fitto di parlare in questo video. Spero che questo video possa essere stato per voi interessante, di vostro gradimento. Ovviamente fatemi sapere se conoscevate questo caso e fatemi anche sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. Detto questo ragazzi, io vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazzi. Ciao ragazze. Ciao ragazzi.